Da due giorni dunque Sambuca di Sicilia è zona rossa. La firma sul provvedimento, lo stesso che ha interessato anche il comune palermitano di Mezzoiuso e nell'escorsiore quello catanese di Randazzo, è stata Dinello Musumeci. I tre varchi di accesso e di uscita del borgo agrigentino sono presidiati 24 ore al giorno dalle pattuglie delle forze dell'ordine, strade vuote, clima quasi spettrale, tra vie, vicoli e cortili. La zona rossa corrisponde ad un lockdown rigidissimo che va ben al di là degli stessi contenuti dell'ultimo DPCM, quello firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Blocco locale dunque a Sambuca adottato a seguito delle conseguenze del focolaio scoppiato all'interno della casa di riposo Collegio di Maria. Zona rossa che a Sambuca di Sicilia rimarrà in vigore almeno fino al 7 novembre e che dunque non verrà rivocata prima di tre settimane, nel corso delle quali sarà vietata la circolazione a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico privato all'interno del territorio comunale, fatta eccezione per quelle che vengono definite indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l'acquisto e il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità. In ogni caso si potrà uscire di casa per le predette ragioni per una sola volta al giorno. A Sambuca di Sicilia in mezzo uso e a Randazzo la principale modalità di lavoro sarà lo smart working, con la promozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. Stoppe anche le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e poi tutto chiuso, niente banchetti né feste private, stoppe anche a scuole di ballo e sale giochi e le cerimonie civili e quelle religiose, ad eccezione dei funerali ma con non più di 15 persone. Rimasti a casa gli studenti pendolari che faranno lezioni col sistema della didattica a distanza, così come nei giorni scorsi era stato chiesto ai dirigenti scolastici di licei e istituti saccenzi, quelli frequentati dagli adolescenti sambucesi. Ma non è tutto, negli esercizi commerciali verrà consentito l'accesso a una sola persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono comunque consentiti l'asporto e la vendita al domicilio sempre all'interno del territorio comunale, nei paesi oggetto di zona rossa e ha consentito il transito dai rispettivi territori comunali per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari, beni e servizi essenziali. Inoltre sarà consentita la circolazione dei residenti o dei domiciliati anche di fatto nei comuni interessati esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante purché condotti a titolo individuale.